Regione Toscana, il Consiglio regionale Approvata all'unanimità dal Consiglio regionale la modifica della legge in materia di depurazione industriale, in seguito all'inchiesta Cheu su traffico illecito di rifiuti e corruzione nel distretto conciario di Santa Croce, che nel mese scorso ha coinvolto anche l'emendamento che era stato approvato dal Consiglio regionale lo scorso anno. Il nuovo provvedimento va a tutelare il sistema misto toscano per sgombrare il campo da equivoci e rischi di incertezze interpretative nel contesto economico produttivo toscano. Ma io rimango davvero contento dell'approvazione della proposta di legge che revoca quello che era l'emendamento che aveva costruito un percorso quantomeno nel profilo interpretativo che è stato poi oggetto di tante discussioni e che aveva messo il governo nelle condizioni di porre un rilievo alla Corte Costituzionale sulla competenza in questa materia ambientale di rilascio delle acque da parte del depuratore con competenza nazionale o invece con altri tipi di valutazioni. Ecco, io quando mi sono reso conto che saremmo andati alla Corte Costituzionale per questa decisione, per questo conflitto di opinioni interpretative, il 7 di luglio ho detto chiudiamo, chiudiamo tagliando la testa al toro, evitiamo che vi sia questo conflitto ma manteniamo il proprio più rigoroso di quello che sono le procedure che a livello nazionale sono state previste. C'è una gerarchia delle fonti e devo dire che al di là di tutto quello che è accaduto, ovvero l'approvazione dell'emendamento circa un anno fa, nel maggio del 2020, la conferma dell'interpretazione di questo emendamento nel contesto legislativo da parte della Giunta, con una delibera dell'allora giunta, quella che mi ha preceduto il 7 di agosto. L'atteggiamento molto rigoroso da parte degli uffici che hanno fatto sì che queste normative non trovassero applicazione durante quest'anno. Ecco che io ho preso l'iniziativa durante il Consiglio regionale in cui discutemmo delle vicende del settore conciario di tagliare la testa al toro e con un provvedimento di legge abrogare quell'emendamento discorso. Questo rende la posizione della Regione Toscana molto chiara, molto trasparente, molto aderente a quelle che sono le normative nazionali in materia di rilascio di autorizzazione ambientale sui depuratori. E al di là delle dichiarazioni di voto, delle opinioni, dei discorsi, delle interviste, il Consiglio regionale, la mia proposta, l'ha approvata all'unanimità. E quindi ritengo di aver operato per il meglio nell'immagine che a questo punto la Regione Toscana può avere anche nei confronti di quello che è il profilo interpretativo in questa materia così delicata, ma su cui dobbiamo essere così rigorosi come è la tutela dell'ambiente. È stata l'ARPAT che è un organismo tecnico e la giustificazione non regge perché il fatto di fare un atto illegittimo o un atto comunque sia scorretto anche sotto il punto di vista politico come riteniamo noi, il fatto che non sia poi mai stato efficace, ma questo lo dovremo vedere perché sembra che non sia così, sembra che quell'emendamento sia servito o potesse essere servito anche per altre situazioni che esistono in Toscana, il fatto che poi sia stato inutilizzato o inutilizzabile non giustifica il fatto che la sciocchezza, come è stata detta dall'ex governatore Rossi, sia stata fatta. La vicenda non è chiusa, oggi partono i lavori della commissione d'inchiesta che speriamo faccia luce sui rapporti che ci sono stati, che sono oggetto dell'indagine della direzione distrettuale antimafia, si tratta di un sistema, quello dei rifiuti in Toscana che per certi versi si regge da un lato su un sistema particolare degli accordi di programma che derivano dai primi anni 2000 e dall'altra parte su tantissime deroghe di cui beneficiano anche tante troppe discariche. Questo è un sistema che va risolto perché chiaramente lascia aperti spazi alle infiltrazioni di chi offre i propri servizi che servono a smaltire più facilmente e con meno costi con naturalmente connivenze con la malavita organizzata. E questo non è più tollerabile perché la Toscana è una terra non soltanto di turismo ma anche di crescita e di sviluppo e deve garantire ai toscani benessere e non lasciare ai nostri figli un ambiente pieno, il seppo di rifiuti sotterrati da tutte le parti. Il politico di oggi non chiude assolutamente la vicenda perché c'è un'inchiesta che dice che quell'emendamento è ancora all'attenzione della magistratura e di chi ha anche altre competenze. Certo rimaniamo basiti dall'assenza per ben due giorni del consigliere Pieroni che continua a non metterci la faccia su un problema che lui come primo firmatario ha provocato e abbiamo in discussione ribadito più volte che noi tutti siamo qui per condannare la mafia ma dobbiamo anche fare in modo di non agevolare la mafia portando emendamenti che non sono per il bene dei cittadini ma che sono probabilmente per finalità personali, politiche che noi riteniamo inaccettabili. Noi come si ricorda quell'emendamento non l'abbiamo votato, arrivò in fondo, nessuno ha avuto all'epoca la premura di illustrarcelo e è stato inserito in quella legge che poi è stata impugnata. La Giunta ha provato a difendere la legge con delibera che dava, mandata l'avvocatura in quel senso e siamo arrivati ad oggi quando in realtà potevamo tranquillamente cancellarlo ieri, quell'articolo 13 bis. Qual è quindi il dato? Il dato è politico, il PD cerca di nascondere sotto il tappeto e magari di frenare una palla che vediamo scoppiata in questi giorni di spaccatura interna portando in aula questa legge. Coinvolgere direttamente le studentesse e gli studenti che si avviano all'esame di maturità in una riflessione sui valori della nostra Costituzione e dello Statuto della Regione Toscana. È l'iniziativa messa in campo dal Consiglio della Regione per il 2 giugno, festa della Repubblica. Il Consiglio ha ristampato insieme un nuovo volume che contiene la Costituzione italiana e lo Statuto della Toscana al fine di distribuire il testo nelle scuole. Il 2021 vede le celebrazioni anche per i 75 anni delle prime elezioni a suffraggio universale nella storia del nostro Paese. Nel 1946 le donne ottennero, per la prima volta nella storia italiana, il diritto di voto attivo e passivo per il referendum tra monarchia e Repubblica e per l'elezione dell'Assemblea Costituente, che avrebbe scritto la nostra Costituzione. Di qui la decisione di distribuire a tutti i maturandi della Toscana una pubblicazione, così da rendere esplicita anche visivamente l'importanza e l'estrema attualità dei principi fondamentali della nostra Carta e del nostro Statuto. Abbiamo voluto come Ufficio di Presidenza e Consiglio regionale fare un dono, donare a tutti i maturandi toscani il nostro Statuto, lo Statuto della Regione Toscana e la nostra Costituzione, proprio per festeggiare la festa della Repubblica e per mandare un messaggio. Il messaggio che noi mettiamo a disposizione, quella è la nostra storia, le nostre radici, i nostri valori, come piccola cassetta degli attrezzi che ogni ragazzo che terminerà la propria esperienza scolastica, inizierà una fase nuova della propria vita, possa portare sempre con sé. Questo è un anno particolare perché oltre a festeggiare la festa della Repubblica, festeggiamo anche il 75esimo anniversario della possibilità data anche alle donne, cosa che prima non era possibile, di poter esprimere il proprio voto nella scelta dei propri rappresentanti istituzionali. È un momento importante, lo facciamo coinvolgendo le scuole della Toscana, inizieremo con un incontro, per me molto significativo e importante, che avrà luogo a Pisa, all'Istituto Carducci, insieme alla giudice della Corte Costituzionale, alla professoressa Navarretta, che ringrazio per la sua disponibilità, ma sono davvero felice di poter dire che quasi tutti i consiglieri regionali hanno dato la propria disponibilità per andare in una classe, in una scuola della Toscana, a distribuire quello che è il nostro pensiero, il nostro dono ai ragazzi che si stanno maturando. Poco fa il direttore dell'ufficio scolastico regionale mi ha detto che quasi 100 scuole della Toscana saranno insieme a noi, parteciperanno in streaming all'evento e questo è un bel modo con cui noi, come Consiglio regionale e come istituzione, vogliamo ancora con più forza raccontare, rappresentare quello che è stato, la fatica che c'è stato per arrivare alla nostra Costituzione, al nostro Statuto. Come sapete il simbolo della nostra regione è il Pegaso alato e quel simbolo nasce proprio dal Comitato di Liberazione Nazionale, che contiene con le sue zampe i salde nella storia, nei valori della nostra regione, ma con le ali che guardano verso il futuro. È previsto il coinvolgimento delle scuole del territorio della regione toscana in modo abbastanza capillare perché questo progetto prevede per l'appunto il coinvolgimento di tutte le scuole delle diverse aree territoriali della regione. C'è una pianificazione delle presenze, delle attività, che quindi copre quasi interamente il territorio regionale. Prevediamo un coinvolgimento di una ottantina di istituti scolastici complessivamente. Le scuole della Toscana sono da sempre particolarmente attente, sensibili a sviluppare le tematiche della legalità, dei diritti fondamentali della persona, della carta costituzionale. E questa iniziativa quindi va nella direzione di implementare ulteriormente il livello di sensibilità di attenzione che il sistema scolastico toscano dedica a queste importanti tematiche. Quindi siamo ben lieti di poter collaborare, di collaborare a queste iniziative e alla buona riuscita della stessa. Sì, è importante far conoscere la nostra bellissima e preziosissima carta costituzionale, le nostre studentesse e i nostri studenti. Quindi questo è sicuramente un bel progetto per il quale ringrazio davvero il Consiglio regionale della Toscana, l'ufficio di presidenza. Io credo che sia importante, anche a fronte di un momento difficile come quello che stiamo attraversando, avvicinare davvero, far conoscere, approfondire con le ragazze e con i ragazzi la Costituzione e soprattutto i suoi principi fondamentali, che restano ancora oggi assolutamente attuali e che meritano di essere attuati. Quindi di dar gambe a questi principi che parlano di solidarietà, di uguaglianza, di diritto alla salute, diritto all'istruzione, diritto al lavoro, pari opportunità. E quindi davvero devono essere parte integrante del percorso formativo dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze. Anche in quest'ottica proprio noi abbiamo promosso, insieme ad Ampi, insieme a Ufficio Scolastico Regionale, insieme all'Università Toscana, insieme agli studi storici della Resistenza e ad altri soggetti, come il Parco Nazionale della Pace di Sant'Ana di Stazzema, come la Domus Mazziniana ed altri, proprio un protocollo di intesa che vuole promuovere la conoscenza e l'approfondimento della Costituzione all'interno delle nostre scuole. L'abbiamo fatto all'indomani del 25 aprile, in una data importante come quella del 2 giugno, perché crediamo davvero che la Costituzione debba essere conosciuta soprattutto dalle giovani generazioni. Sì, sono stato da sempre uno dei fattori più convinti del ritorno a studiare e a conoscere i valori della nostra Costituzione e della nostra Repubblica. Ecco perché oggi è particolarmente importante celebrare la festa della Repubblica, anche perché veniamo da un momento difficile e questa festa, grazie all'iniziativa della Regione Toscana, del Consiglio regionale, verrà portata nelle scuole del territorio toscano. È nata in condivisione con tutti i membri dell'ufficio di Presidenza ed è stata appoggiata dai colleghi di praticamente tutti i gruppi. Questo è veramente bello perché festeggiare insieme la scuola e le istituzioni, portando ai ragazzi insieme, pensiamo, sia alla Costituzione Repubblicana sia allo Statuto della Regione Toscana. Altro segnale fondamentale, si riparte tutti insieme, soltanto una azione sinergica dal punto di vista istituzionale e forte con la presenza può veramente essere determinante per la ripartenza. È importante condividere con i ragazzi delle scuole i valori della Costituzione, i valori dello Statuto della Regione Toscana, due carte fondamentali che si legano nella storia della liberazione e della resistenza della nostra terra è la condivisione dei valori fondamentali, dove tutti i partiti si riconoscono, dove tutti i cittadini trovano fondamenta delle proprie libertà. Pensiamo al diritto all'istruzione, alla formazione, alla salute, alla libertà, principi cardine che trovano fondamento, che devono essere garantiti, attuati mediante le leggi, mediante le istituzioni. Quindi è corretto che noi, come rappresentanti dei cittadini toscani, possiamo divulgare questa iniziativa, condividerlo con le nuove generazioni a una generazione che appunto si appresta a fare l'esame di maturità, per il quale noi chiediamo che con forza possa essere fatto in presenza e magari questi ragazzi possono anche essere vaccinati e nello stesso tempo possono essere fruttori, artefici, protagonisti del loro futuro, loro stessi che hanno sofferto più di altri. A mio avviso il lockdown è questo anno così complesso e questo possa essere un segnale di riscatto e di libertà come lo è stata la Costituzione italiana dopo la guerra.